E' seduta comoda sulla tua sedia, senti i tuoi piedi ben appoggiati per terra, mantieni la tua schiena bene retta ma non rigida, se senti che c'è ancora tensione nelle tue spalle con una ispirazione lasciale cadere verso il basso, puoi rilassare profondamente le tue braccia appoggiando le tue mani sulle tue cosce oppure sul tuo tantien tra l'ombilico e il puga, come preferisci, puoi sentire e immaginare come l'apice della tua testa sia tirata verso l'alto, verso il cielo e la punta del tuo porcice tirata invece verso il basso, verso la terra, in modo che tutte le tue vertebre possano distanziarsi l'una dall'altra e il tuo corpo possa distendersi sulla sedia e con gli occhi chiusi puoi entrare di più nella tua visione interiore. inizia semplicemente ad ascoltare il ritmo del tuo respiro, l'aria che entra e l'aria che esce, respiro dopo respiro, c'è abbastanza aria per ogni tuo respiro e dopo un respiro mi viene un altro senza sforzo alcuno. il tuo respiro è naturale, lento e profondo e usando il potere della tua immaginazione puoi vedere adesso il tuo fegato come se tu potessi andarlo a visitare, a trovare e puoi immaginare di creare una luce verde, del verde che più ti piace, scegli tu la tonalità. e con questa luce puoi riempire tutto il tuo fegato e vedere come ad ogni tuo respiro l'aria può entrare nel tuo fegato, riempirlo insieme alla luce verde. e ogni volta, respiro dopo respiro, il fegato si nutre sempre più di nuova energia. ad ogni tua ispirazione, l'aria che entra va a rinfrescare e accalmare il tuo fegato. ad ogni tua ispirazione va a rinfrescare e accalmare il tuo fegato. l'aria, uscendo, porta via da te e dal tuo fegato tutte le impurità, tutto il C pesante, tutta la tensione nelle tue emozioni. inspiri, il tuo fegato si rinfresca e si calma. e la luce verde diventa sempre più brillante. espiri e il tuo fegato si svuota di tutte le impurità, di tutti gli accumuli, di tutte le tensioni. e ogni ispiro ed espiro è un massaggio per il tuo fegato. e respira ancora in tutto questo, mentre ringrazi il tuo fegato per tutto il lavoro che giorno dopo giorno fa per te. e adesso puoi fare un piccolo viaggio e immaginare di essere all'aperto in un luogo che ti piace. magari un grande prato ti guardi intorno e il panorama infonde una grande serenità. vedi che il sole sta per sorgere ed è l'alba di un nuovo giorno. lentamente, istante dopo istante, la luce del sole rischiara il cielo e illumina tutta la natura intorno a te. l'aria è fresca e limpida e il cielo diventa sempre più azzurro. puoi sentire il profumo dell'erba abbagnata di rugiada e insieme il canto gioioso degli uccelli. sta iniziando un nuovo giorno, pieno di possibilità. ogni cosa può accadere. non c'è niente di impossibile. oggi è un nuovo giorno e ogni giorno è un nuovo inizio. sei concentrato su te stesso, sei concentrata su te stessa e senti arrivare una brezza leggera sulla tua pelle. è come una carezza delicata che ravviva la tua energia. la brezza carezza il tuo viso, le guance, la fronte, è delicata e sottile, è come un sussurro, è gentile. muove leggermente i tuoi capelli e li fa danzare con volcezza. senti come l'aria stimola la tua energia, ti ravviva e ti rallegra. tutto in natura è in continuo movimento e continua trasformazione. tutto nella tua vita è in continuo e fluido divenire. continua a respirare in tutto questo e fanno ancora per qualche altro respiratorio. e sapendo che potrai tornare a questa esperienza ogni volta che lo vorrai, puoi prepararti lentamente all'idea di tornare qua. staccando dolcemente le mani, muovendo le dita delle mani e dei piedi, stirandoti, allungandoti sulla sedia come quando ti svegli la mattina. potrai aprire gli occhi e tornare completamente qua, in questo luogo e in questa stanza.